mercoledì 4 marzo ariete oggi è il momento per decidere valutare analizzare soppesare pro e contro e scegliere se dare una nuova direzione alla tua vita toro quando vuoi se essere convincente in realtà in ambito professionale lo sai sempre riesce a convincere della tua preparazione senza apparire saccente gemelli giornatina per nulla leggera piena di impegni previsti e imprevisti nulla potrà essere rimandato a domani e così arriverai a sera decisamente k o cancro inverno imperversa e forse sei vittima del freddo purtroppo forse oggi dovrai fermare a causa di qualche impristo di salute leone il tuo fiuto per gli affari anche questa volta non sbaglierà il tuo team di lavoro sotto tua indicazione porterà a casa un progetto importante un successo meritato vergine oggi quido non vada ad ora luogo situazione oggi la sua freccia colpirà quando meno te lo aspetti bilancia ti sveglierei con il desiderio di fare qualcosa per la persona amata o dimostrare quello che provi a chi stai corteggiando da un po scorpione al lavoro si presenteranno ostacoli incompressioni tra colleghi imprevisti di ogni genere ma marte ti vuole deciso e risoluto dritto all'obiettivo nonostante tutto e tutti sagittario non andrà tutto come speravi ma non dimorderai e proverai la tua determinazione è senza dubbio uno dei tuoi canteri distintivi capricorno sveglia ogni centimetro del tuo corpo e ritroverai l'energia che ti serve il benessere del tuo corpo è alla base del tuo equilibrio amoroso e professionale acquario il desiderio e l'attrazione per il partner saranno tali che anche un possibile malessere fisico potrebbe spegnere il fuoco che venere ha acceso pesci nervoso come sei oggi è facile rischiare di parlare troppo venere innamorata più che mai ti invita a usare la bocca non tanto per parlare quanto per baci